traslazionale e cioè di scoprire al letto del malato quali siano i bisogni di questo paziente, trasferirlo in laboratorio, studiare delle soluzioni per poi riportarle al letto del malato è quello che un reparto moderno deve fare e noi ci impegniamo in questo senso. Quindi possiamo dire che dal punto di vista accademico la nostra attività si articola in diverse funzioni e diverse caratteristiche. Prima di tutto abbiamo questo concetto della ricerca traslazionale che richiede di analizzare i bisogni del paziente al letto del malato, trasportarli in laboratorio, studiare delle soluzioni e riportarsi poi al letto del malato per implementare queste soluzioni e vedere quali siano esattamente le necessità. Facciamo una ricerca quindi clinica applicata su base epidemiologica, per esempio abbiamo una importante ricerca in corso sul rene policistico e sulle patologie genetiche che possono coinvolgere il nostro territorio provinciale. In termini di epidemiologia studiamo quando queste malattie accadono e come accadono e quali siano le possibilità di prevenzione, mentre poi le nostre attività di ricerca applicata si dirigono soprattutto nel settore della bioingegneria, quindi dei nuovi materiali, della meccatronica, delle applicazioni miniaturizzate. A questo proposito la nostra ricerca sul rene artificiale indossabile, sulla cintura per dialisi, per così dire, ha portato all'idea di sviluppare nel corso dell'anno prossimo una conferenza internazionale dove speriamo di portare gli studiosi di tutto il mondo a Vicenza per questo scopo e certamente cercheremo di trarre vantaggio per i pazienti di questi nuovi studi. E poi abbiamo naturalmente studi nell'ambito della dialisi peritoneale, della dialisi extracorporea e del trapianto. L'altra attività accademica che noi svolgiamo è un'attività didattica che vede naturalmente la, diciamo, esecuzione di lezioni magistrali nelle due università di Padova e Bologna da parte mia e dei miei collaboratori, ma anche alla University of Virginia negli Stati Uniti dove io sono professore, alla University of New York e anche alla University of Pittsburgh dove svolgiamo delle attività combinate. Il recente gemellaggio di Vicenza con Cleveland ha suggellato alcuni dei rapporti che già avevamo con Cleveland nel passato e quindi speriamo ulteriormente di poter fare delle ricerche combinate con la Western Case University di Cleveland. Poi abbiamo tutta un'attività didattica che è rivolta al personale della nostra unità, ma anche di tutto il dipartimento provinciale, quindi includendo gli ospedali di Tieneschio, di Bassano, di Asiago, di Arzignano e di Valdagno proprio in un'ottica di sinergia dipartimentale. E infine svolgiamo dei master postgraduate per medici italiani.